Ordine del giorno 62, onorevole, onorevoli, onorevoli, per cortesia, onorevole Del Mastro, onorevole Del Mastro, onorevole Del Mastro, onorevole Del Mastro, fermi, 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 fermi. Onorevole Del Mastro cortesemente si siede sui banchi del governo. Sospendiamo la seduta. Onorevole Pellegrini. Grazie Presidente per sottoscrivere l'ordine del giorno del collega Gubitosa. Approfitto due secondi per dire ai colleghi della destra di non fare i gesti, vieni qua o dito medio. La ringrazio. Onorevole Graziano, Gubitosa prima perché è il suo ordine del giorno. Presidente, volevo... Mi scusi. Mi scusi. In questo momento, mi scusi, in questo momento l'ordine del giorno Gubitosa chiedo all'onorevole Gubitosa... Presidente, volevo chiedere al sottosegretario, data l'importanza del tema, di cambiare il parere.